Come si può parlare di meglio o peggio? Non soltanto rispetto al cinema probabilmente e non riuscirei a dirti il cinema del passato o il cinema recente, sicuramente ho molti più legami affettivi con il cinema del passato, forse perché è cresciuto in qualche modo dentro di me, quelle storie sono cresciute nel tempo, ma non ne farei una questione di tempi, ne farei una questione di contingenze, di mondo in cui viviamo e mondo in cui vivevamo. Io credo che siano proprio due cose diverse, il cinema di adesso è la modernità, l'utilizzo di sistemi e supporti che non c'erano, quindi secondo me è venuta a mancare quella fantasia che in certi momenti devono crearsi per fare delle situazioni, che è un bene perché probabilmente c'è più materiale ma in realtà c'è meno visibilità, non c'è un meglio o un peggio, c'è un diverso. Per certi versi meglio il cinema italiano perché parla di me, parla della realtà che vedo costantemente, quando riesce a parlare di una realtà, quando non è un cinema soltanto fatto per catturare attenzione del momento o peggio ancora quando aveva le età artistico, autoriali che purtroppo è la pecca grossa del cinema italiano. Per quanto riguarda il cinema saniero ci sono così tante cinematografie che la domanda è davvero super vaga. Super vaga, mi piacciono molte cose che arrivano dagli Stati Uniti, mi piace anche molto cinema mainstream americano, mi piace anche l'Hollywood americano. Direi che ci mancano le cinematografie nuove semplicemente perché a noi non stanno arrivando quelle del Nord Africa piuttosto che le cinematografie africane. Forse questa è la nuova frontiera, che questi riescano a portare un nuovo linguaggio e nuovi contenuti soprattutto al cinema. Tutti e due, non riesco ad avere una preferenza, ci sono dei film in particolare che mi piacciono più perché mi viene in mente il cinema spagnolo perché ha questo noir, il grottesco, mi piace molto loro, un po' come i francesi, però ci sono molti film francesi che non mi piacciono, così come la commedia italiana, io l'adoro ma non trovo più in Italia la commedia italiana, quindi sì, tutte e due, dipende che cosa sto guardando in realtà. Ormai ho smesso di fare la classificazione italiano o straniero, purtroppo per molti versi quando si parla di film italiani si storge il naso, è un peccato. Stai parlando con uno che ha sempre faticato molto a creare, ad avere delle icone. In qualche modo lo rifiuta, rifiuta l'idea del sesso dell'icola. Sicuramente il cinema di Kubrick è quello che mi ha dato modo di crescere cinematograficamente. Non credo che sia una specie di emanazione del divino in terra, così come viene considerato. Comunque il suo cinema, il suo Barry Lyndon è sicuramente fra uno dei miei film preferiti, però anche lì è una questione nemmeno tanto di regia, ma quanto di storia e di riconoscersi o meno emotivamente in una storia. Per quanto riguarda attori, Clint Eastwood, Forever. Posso fare il suo piallone? No, in questo momento non saprei. Beh, è un Mastroianni perché non so perché per me è uno degli attori, ma era, capisci? Non ho un'icona che è costante, ripeto, perché per me il cinema è veramente a 360 gradi. Kubrick, per esempio, a me non piace, infatti sono qua. Come è possibile? Vedi che è questione di gusti. La costruzione del mito è sicuramente qualcosa che manca alle nostre società, non è soltanto una questione dell'Occidente e non è solo legata al cinema. Quindi se un Mastroianni può essere un'icona per il cinema italiano degli anni 60 è sicuramente perché c'era un costrutto culturale differente, c'erano substrati e substrati, ripeto, e substrati culturali molto importanti e molto forti. Forse la mancanza del mito viene anche dal fatto che il substrato culturale in cui ci muoviamo obiettivamente mi sembra povero. E i miti quindi diventano icone televisive, solitamente, instant icon, diventano personaggi che poi non riescono a mantenere l'aura del personaggio. Quindi credo che sia una questione di sistema la mancanza del mito. E quindi io faccio davvero fatica a trovare icone. Oggi sicuramente molto di più. C'è anche da dire che se posso parlare di Clint Eastwood o di Kubrick è perché comunque hanno avuto il tempo anche di decantarsi. C'è stato un tempo dal momento in cui hanno prodotto al momento in cui io ne parlo, in cui queste cose sono cresciute dentro. Però probabilmente perché c'è un substrato che oggi non trovo. Questo substrato culturale non lo vedo più. Lo vedo, o perlomeno è sommerso da un mare di inutilità. Che sì, che ho altamente additivo, sicuramente. Sicuramente. E che poi ne vuoi di più. Quindi le cose... È una malattia. È qualcosa che poi a un certo punto forse qualcuno dovrebbe anche imparare a curarsi. E da questo osservatorio privilegiato, perché questo negozio sicuramente è un osservatorio privilegiato e lo è stato per anni, direi che ho potuto... Posso sicuramente dire che ci sono dei buoni psicologi per gli amanti del cinema. Vale la stessa cosa, sì. Non me l'avevano detto che... Che a un certo punto hai bisogno del cinema, a volte anche per sperare e credere in qualcosa di meglio. È un modo come un altro. Però è sicuramente altamente additivo, quindi diventa poi un problema anche di spazio. Beh, a chi lo fa di cercare il nuovo attraverso le proprie esperienze e di non ripetere o di non svendersi, soprattutto ai giovani, a quelli emergenti, di non svendersi, perlomeno non subito, ecco. Se proprio lo devi fare, farlo più avanti. E quindi questo ha anche a che fare con l'imvadenza della televisione, col fatto che se vuoi produrre, soprattutto in Italia, devi passare quasi sempre dalla televisione con tutti i limiti che questo pone, non soltanto economici, ma anche di contenuti e di linguaggio. Di non smettere comunque né di farlo né di vederlo. È un modo per rapportarsi non solo alla società e tutto quello che dovrebbe essere il contesto cinematografico, ma anche con se stessi. A volte tramite un film si riescono, tra virgolette, a tirare fuori delle cose di sé che non si pensava. E quindi magari un film, a volte con una frase, con una scena, può aiutare semplicemente in quel momento quella persona. a volte con una scena. Grazie a tutti